Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Denunciati 5 amministratori che producevano bottiglie di liquore con marchi e stemmi delle forze dell'ordine nei guai anche una società di acqualagna Giustamente i clienti hanno pagato un servizio e hanno tutti i diritti di arrabbiarsi La palestra chiude senza preavviso generando polemiche e preoccupazioni Il titolare rassicura gli abbonati non abbiamo fallito dobbiamo solo eseguire lavori di manutenzione Alcuni autobus viaggiano pieni creando disagi a studenti e famiglie Fra poco la testimonianza di una ragazza e le interviste ai dirigenti scolastici Lo chef Antonio Scarantino è il vincitore del titolo Miglior Brodetto Locale 2015 Dopo il Tg torna primo cittadino nei nostri studi il vice sindaco di Fossombrone Michele Chiarabini Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Cinque persone sono state denunciate per aver prodotto e commercializzato senza autorizzazione bottiglie di liquore con immagini distintive della Guardia di Finanza e dei Carabinieri La Guardia di Finanza di Pesaro sta eseguendo in provincia ad Aqualagna e in altre città italiane perquisizioni e sequestri di bevande alcoliche con stemmi e marchi delle fiamme gialle dei Carabinieri Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Urbino hanno consentito di individuare una società di Aqualagna che produce e commercializza senza alcuna autorizzazione bottiglie di liquori con stemmi ed immagini distintive della Guardia di Finanza e dei Carabinieri Le Forze Armate spiega una nota della Guardia di Finanza hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni dei propri stemmi degli emblemi e di ogni altro segno distintivo Norme specifiche consentono previa autorizzazione l'uso di tali segni nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine degli enti stessi Le investigazioni oltre allo stabilimento di confezionamento di Aqualagna hanno consentito di individuare alcuni rivenditori a Bari, Milano e Palmi che risultano commercializzare le bevande alcoliche anche online I cinque amministratori delle ditte individuate sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Urbino per aver utilizzato stemmi ed emblemi al fine di trarne profitto sono in corso di accertamento analoghe e violazioni per l'uso in debito di marchi di altre forze armate Gli uomini della Capitaneria di Porto di Pesaro hanno soccorso in collaborazione con i sanitari del 118 un marittimo di 57 anni che aveva accusato un malore per un problema cardiaco L'uomo tecnico specializzato impiegato a bordo di una piattaforma collocata a circa 18 miglia marine dal Porto di Pesaro era in stato confusionale alternato a momenti di lucidità perdita dei sensi e pressione alta ricevute le prime cure è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore e ora è fuori pericolo ed anche questa sera torniamo a parlare degli abbonati della palestra di Viale Romagna che ieri mattina avevano trovato le porte dello stabile chiuso senza alcun preavviso noi questa mattina abbiamo intervistato il titolare che ha voluto rassicurare tutti i clienti il servizio di Lino Balestra io sono qui a tranquillizzare tutti i clienti che hanno fatto un abbonamento qui e anche chi si volesse venire a scrivere che la Extra Spa è viva la Faster Fit continuerà a garantire a derogare il servizio tempo massimo di fare l'entrata nelle utenze ripristinare il gas tutte quelle cose che non funzionavano le hanno dato purtroppo mi scuso con tutti i clienti a nome della Faster Fit ripeto che non la c'entra che hanno dato un disservizio che non merita rassicurazioni che il titolare del marchio Faster Fit dato in concessione alla Vittoria SRL che di fatto gestiva la palestra fino ad oggi ha dovuto dare di persona ieri sera una trentina di clienti che si sono ritrovati davanti alle porte della Extra Spa spiegando anche il motivo alla base di questa inspiegabile e improvvisa chiusura c'è stato un malinteso perché la società Vittoria SRL che gestisce l'Extra Spa si è dimenticata di mettere fuori una comunicazione dove c'erano dei guasti agli impianti io mi è insaputa l'ho saputo all'ultimo ieri sera mi sono precipitato qui perché comunque essendoci il mio nome lì e come fatto si dimostri ci finisce sempre chi non c'entra niente sui giornali alla base di tutto quindi potrebbe esserci una carenza di comunicazione tra la Vittoria SRL e i suoi clienti che ha alimentato secondo il titolare della Faster Fit false congetture sulle sue sorti societarie quello che oggi c'è scritto sui giornali non corrisponde alla verità è vero che non c'è stata per coincidenza un'informazione giustamente dei clienti e giustamente i clienti hanno pagato un servizio e hanno tutti i diritti di arrabbiarsi quindi fra pochi giorni possiamo dire tranquillamente che riprenderete la vostra normale attività di palestra di fitness io purtroppo non mi nascondo sono qui con la mia faccia già da adesso la porta è aperta chi vuol venire questo dimostra che tutto quello che c'è scritto nei giornali non è vero che c'è un fallimento della Vittoria SRL tutte queste voci che ci sono in giro quindi la Vittoria SRL non è fallita cioè la società che gestiva l'Extra Spa quindi sono tutte cattiverie che sono state dette giustamente magari anche in un momento di nervosismo da qualche cliente come spesso capita in queste situazioni ed ora torniamo ad occuparci del problema degli autobus che a volte viaggiano troppo pieni di persone dopo la testimonianza di una ragazza sentiremo le dichiarazioni di due dirigenti scolastici le segnalazioni degli studenti e delle loro famiglie hanno acceso i riflettori su un problema che si presenta dall'inizio dell'anno scolastico i genitori invocano il rispetto delle norme di sicurezza dopo aver pagato gli abbonamenti e i ragazzi lamentano una situazione di disagio devo prendere quello che parte da Pergola che arriva fino a Pesaro come vi trovate all'interno? c'è spazio per tutti? riuscite a mettervi seduti? io sì quando salgo ci sono i posti però quando arriviamo verso Marotte già non ci sono più è capitato che qualcuno è rimasta a piedi? sì molte volte sì molte volte una volta quando eravamo qui al pincio dovevamo prenderlo per andare a casa siamo rimasti a piedi non sapevamo che tram prendere a quel punto dovete chiedere aiuto ai vostri genitori che vi accompagnano a scuola? sì oppure prendere certi tram che non ci portano a casa e dopo farci accompagnare i vostri genitori che cosa dicono? si lamentano? eh sì perché comunque noi paghiamo all'anno un tot di soldi che comunque dovrebbe garantirci il trasporto il vostro abbonamento è aumentato? sì è aumentato sì di 20 o 30 euro quello che si chiede diciamo è almeno la certezza di poter salire su un'auto? eh sì anche quello poi le corriere non aspettano una coincidenza è una cosa che non si sa particolari problemi però non sono stati segnalati alla dirigenza del liceo Nolfi di Fano qualche ritardo è capitato soprattutto nei giorni di pioggia ma qualche volta all'uscita qualche studente ha perso l'autobus in particolare mezzogiorno e cinque però all'inizio quando si è trattato di sistemare la cosa ultimamente mi sembra io non ho più la mentele quindi mi sembra che i problemi siano rientrati qualche studente comunque si è giustificato scrivendo nell'apposito libretto che è arrivato tardi a scuola per aver perso l'autobus però non so se per causa dello studente che si è svegliato tardi o perché non è riuscito a salire sull'autobus questa è la giustificazione a me non risulta la dirigenza del liceo scientifico Torelli invece ha inviato delle sollecitazioni all'azienda pubblica di trasporto la richiesta è che i mezzi siano proporzionali al numero degli studenti dal punto di vista degli orari e cioè dell'allineamento fra orari lezioni e orari autobus non abbiamo disagi del resto sono state costruite le due cose in sincronia diciamo in collaborazione abbiamo segnalazione di qualche difficoltà per quanto riguarda l'affollamento di alcune corse in particolare la linea che va verso Marotta un paio di genitori hanno segnalato un affollamento sulle corse quindi si tratterebbe di potenziare e aumentare il numero di corse sostanzialmente non di modificare gli orari delle corse medesime noi l'abbiamo fatto presente questo fatto ad Adria Bus attendiamo riscontri è un tentativo di furto di slot machine nel bar tabacchi mi vida di Villa Fastigi a Pesaro la scorsa notte si è concluso con due colpi di fucile da caccia sparati dal titolare a scopo intimidatorio il proprietario Giorgio Cesaretti di 74 anni si è affacciato alla finestra e ha visto un furgone fermo con il motore acceso e tre persone che entravano e uscivano dal bar tentando di portare via quattro slot machine in vano Cesaretti ha urlato che avrebbe chiamato la polizia i tre malviventi infatti hanno continuato a lavorare allora l'uomo ha preso una carabina e ha sparato dove vedeva che non c'era nessuno a quel punto i laderi sono fuggiti a piedi per i campi azionando un estintore che avevano portato per sollevare polvere e confondere probabilmente il tiro sul posto è intervenuta la polizia che è alla ricerca dei fuggiaschi ed ora cambiamo argomento perché le forze politiche di maggioranza del comune di Fano si sono unite per impegnare la giunta a mettere in sicurezza il torrente Arzilla tronchi, rami e detriti queste immagini realizzate da un nostro telespettatore mettono in evidenza i problemi esistenti lungo il torrente Arzilla che nel caso di piogge e forti temporali non ha esitato a desondare anche lo scorso inverno provocando danni ingenti per questo motivo la maggioranza del comune di Fano ha protocollato una mozione per la salvaguardia la messa in sicurezza del torrente l'obiettivo che si pone è quello di far sì che le istituzioni tengano alta l'attenzione sul rischio di esondazione ricordando le numerose famiglie che abitano nelle vicinanze del corso d'acqua sì, questa mozione è un'attestazione di vicinanza detto alla maggioranza del Consiglio Comunale il torrente Arzilla è un torrente che nell'ultimo tratto interessa comunque un abitato di Arzilla e Gimarla e quindi necessita di una manutenzione importante un ultimo intervento è stato fatto tra il 2013 e il 2014 grazie alla provincia di Pesurubino e alla regione Marche che l'ha finanziato mettendo in sicurezza una sponda con questa mozione si chiede di ampliare l'intervento ancora più verso Monte e quindi il comune di Fano e la maggioranza intera chiede insomma di intervenire verso le istituzioni che hanno responsabilità in merito quindi regione Marche la provincia di Pesurubino e il consorzio di Bonifica affinché vengano fatti altri interventi per mettere in sicurezza un po' tutti gli abitati so che ci sono anche segnalazioni un po' anche verso l'interno del corso d'acqua dal ponte Mimo ci sono tronchi che andrebbero tolti quindi un'operazione che comunque consente di mettere in sicurezza appunto un po' tutto il percorso Un dino è stato investito oggi pomeriggio intorno alle 18.30 nella strada comunale di Rosciano a Fano l'animale sarebbe comparso improvvisamente dal campo laterale alla via e la conducente di una Mazda 5 Station Wagon non sarebbe riuscita a schivarlo sul posto la polizia municipale e il personale del CRAS che ha provveduto a recuperare l'animale leggermente ferito alla testa illesa invece la donna al volante e ancora eventi il centro studi Vitruviani organizza per domani un'intera giornata dedicata a Mario Luni docente universitario e membro del comitato scientifico scusandomi della ripetizione avere la fortuna di una città dedicata alla Deo Fortuna è un qualcosa che può essere usato anche dal punto di vista turistico dal punto di vista degli sponsor di tante cose poi da un punto di vista culturale cioè Fano città del carnevale sì ma ce ne sono tante di città del carnevale Fano città dei bambini non mi sembra un nome da dare insomma un po' come Roma Roma capitale cioè Roma e Roma chiuso il discorso Fano ha questa fortuna quindi abbiamo pensato di dedicare la terza giornata in onore del professor Luni famoso archeologo e professore di archeologia all'università di Urbino purtroppo scomparso l'anno scorso tre giornate in suo onore le prime due giornate avvengono ad Urbino all'università la terza giornata visto che lui era membro del nostro comitato scientifico la facciamo a Fano e la facciamo dedicata alla fortuna il livello dei convegnisti come il solito direi che è di grande importanza cioè la mattina diciamo forse un po' meno scientifico ma più più divulgativo all'aula magna del liceo scientifico con tanti ragazzi che saranno presenti il convegno avviene nella sala della fondazione Cassa di Risparmio in via Montevecchio e quello comincia alle tre e andrà avanti con i vari convegnisti e nella sala riunioni Cecchini a Lucrezia di Cartoceto domani sera giovedì 29 ottobre si svolgerà una lezione informativa gratuita sulle manovre antisoffocamento o salvavita quindi in caso di ostruzione delle vie aeree da cibo giochi e altri oggetti pericolosi l'incontro che avrà inizio alle ore 21 organizzato dal comune di Cartoceto in collaborazione con Salvamento Academy il sabato 31 ottobre si inaugura invece a Sant'Orso di Fanno la nuova area parrocchiale si sabato alle tre vivremo l'inaugurazione del campetto parrocchiale che si inserisce all'interno di una progettualità più ampia abbiamo parlato già anche in un vostro precedente servizio del progetto sulla ristrutturazione del teatro e siccome la nostra parrocchia è dotata come si vede di ampi spazi anche da dedicare allo sport e crediamo che lo sport costituisca un abito essenziale della vita dell'uomo abbiamo deciso con la comunità di fare questo investimento che è un investimento sulla persona quindi sabato ci sarà la benedizione di questa struttura che è un primo passo che poi vedrà il completamento piano piano in feri dell'area parrocchiale un piccolo torneo un momento di fraternità che però per noi è un momento significativo perché proprio fa vedere l'inizio di una progettualità nuova che c'è sempre stata che però adesso comincia a prendere corpo ecco qui a Sant'Orso c'è una comunità molto coesa molto coinvolta sempre in diverse attività questo è uno sprone per dare sempre nuovi momenti di aggregazione a queste famiglie a questi ragazzi a questi giovani sì noi crediamo anche con Don Matteo in un progetto condiviso nel fatto che la chiesa deve essere presente dove è presente l'umano la vita cristiana e la pienezza di vita umana quindi ci piace pensare come sacerdoti di una parrocchia che guardando ledialmente dall'alto possa contemperare e rispondere a tutte le esigenze dell'uomo si vede la chiesa che risponde all'edificio di culto che risponde alle esigenze dello spirito poi le esigenze aggregative quali quelle che verranno ad essere soddisfatte con il teatro la cultura la formazione delle famiglie dei giovani degli anziani e non di meno la formazione dello sport che è una formazione della vita quindi guardando da un Google Maps ideale la nostra parrocchia diventa una risposta alle esigenze globali dell'uomo e di questo noi siamo contenti ma è onore della comunità che si sta impegnando in questo è la comunità che lavora noi siamo solo una piccola parte ed è stato presentato oggi a Pesaro Gesù energia del mondo il crocifisso disegnato e realizzato nei laboratori di Tavuglia da Vittorio Livi fondatore di Fiam Italia l'opera verrà donata sabato a Papa Francesco in occasione dell'udienza privata concessa in Vaticano a tutti gli iscritti all'Unione Cristiana imprenditori dirigenti gli ancora eventi dopo il grande successo ottenuto dalla tredicesima edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce ieri sera è stato premiato il miglior brodetto locale a vincere il titolo lo chef Antonio Scarrantino Ad aggiudicarsi il titolo di miglior brodetto locale per l'edizione 2015 di Fuori Brodetto è stata la ristotrattoria La Paglia di Marotta ad insindacabile giudizio della giuria tecnica e cucinato dal giovanissimo chef Antonio Scarrantino 27enne di origini siciliane con esperienze in cucine di mezza Europa tra cui quella dello stellato Massimo Bottura la manifestazione a latere del Festival Internazionale del Brodetto delle Zuppe di Pesce organizzato dalla Confesercenti testimonia la crescita costante di questo evento che ha assunto la dimensione extranazionale Ha un significato molto importante secondo me che il ristorante La Paglia abbia vinto questa edizione un ristorante di Marotta cosa vuol dire? Per me è importante perché negli ultimi anni abbiamo sappiamo che nella zona sud diciamo oppure in dialetto Dladalpont di Fano c'è una cultura si sta facendo molto forte una cultura gastronomica e si sta creando un polo gastronomico della cucina marinara che si chiama Marotta tutta la zona sud di Fano da Torrette Ponte Sasso Marotta ci sono tanti ristoratori che stanno lavorando in questo momento molto molto bene ed stanno lavorando in modo molto apprezzato dai fanesi soprattutto perciò per noi è un motivo di orgoglio che un ristorante di Marotta abbia vinto questa edizione del fuori brodetto il piatto realizzato da Scarantino è una combinazione di tecniche di cottura moderne e diversificate a seconda della consistenza dei vari pesci a dimostrazione della grande padronanza e del rispetto per la materia prima del giovane chef la salsa viene realizzata secondo tradizione però ma versata direttamente nel piatto per rispettare al massimo il sapore del pesce servito abbiamo utilizzato tutto pesce locale stagionale l'abbiamo diciamo diciamo valorizzato con alcune cotture cercando di mirare diciamo alla consistenza al sapore nella serata premiati anche altri due ristoranti fanesi il galeone con una menzione speciale per la tradizione e la liscia da ori per la sua convivialità ed ora una breve di sport perché una seconda trasferta è stata vietata ai tifosi e ai sostenitori Granata dopo quella diesi di domenica 18 ottobre il divietore riguarda la prossima giornata di campionato che si disputerà il primo novembre allo stadio Gaetano Bonolis di Piano Daccio in provincia di Teramo per l'incontro San Nicolò Alma Juventus Fano lo ha disposto il prefetto di Teramo sulla base delle indicazioni giunte dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive questa era l'ultima notizia vi ricordo che dopo il Tg torna il nostro programma primo cittadino quindi il vice sindaco Michele Chiarabilli sarà nei nostri studi come sempre potete intervenire in diretta telefonando al numero 0721 86 14 33 oppure mandare un messaggio anche con whatsapp al 338 49 68 250 allora grazie per la vostra attenzione ci vediamo fra poco grazie per la vostra